Siamo di fronte a un laghetto che è proprio alle spalle del sito archeologico di Lungola e siamo insieme a Carmine Ferrara, degli amici del Sarno. Sì, in effetti questa è un'oasi naturalistica che si è creata naturalmente ed è una sorta di laghetto segreto che pochi conoscono ma che stiamo provando a rendere proprio un luogo di ricovero e di produzione degli uccelli acquatici. Noi crediamo che questo lungofiume di Lungola sia un'opportunità notevole per il territorio di creare un luogo dove finalmente possiamo sentirci cittadini di questo luogo. Noi abbiamo scoperto l'ungola da alcuni anni insieme a Terra Mare 3000 con cui Amici del Sarno collabora e crediamo che questa sia veramente l'occasione per riappropriarsi della propria cittadinanza. Noi viviamo nelle nostre città pieni di cemento, pieni di smog, pieni di inquinamento sentendoci stranieri in patria. Quando veniamo qui per fare attività di formazione, informazione, ci risentiamo finalmente appartenenti a questo territorio. Quindi la prima proposta che noi facciamo ai cittadini è venite qui e venite a provare la sensazione di appartenere finalmente a questa terra. Questo è il Sarno, diciamo così, vivibile, è il Sarno che fa capire come potrà essere gran parte del resto, diciamo, meno banalizzato all'interno delle città e quindi questo per noi è un progetto piloto, ma è un progetto che stiamo provando ad estendere anche in altri comuni riveraschi. Quindi sostenibilità declinata in tutte le sue forme, declinata in ambito ambientale e soprattutto possibilità di fare birdwatching per osservare l'aerone cinerino, per osservare i cavalieri d'Italia, per osservare lo svasso, le rane e provare, diciamo, questo è un progetto un po' come dire, ai quali siamo legati molto e che teniamo girosamente custodito per il momento, provare a ripopolare gambeletti, granchi e altre specie autocotone del Sarno. Quindi questa è una cosa che stiamo studiando con alcuni docenti dell'università.